Assaggio di calcio che conta per Catania e Palermo. Prima sconfitta nel precampionato per i rossazzurri di Maran. Il Catania allo Stadio 3 Stelle di Desenzano del Garda è stato battuto per 1-0 dal Vicenza. Maran ha provato tutti gli uomini a sua disposizione schierando dal primo minuto sia il portiere Frison che l'argentino Castro al fianco di Berghessio e Gomez. Buone trame di gioco per i rossazzurri che tuttavia non sono riusciti a recuperare il gol di Minesso del 41esimo del primo tempo lasciato solo davanti alla difesa. Gli Etnei resteranno in ritiro sulle rive del lago di Garda ed affronteranno sabato 28 alle 18 il Chievo.